È chiuso da ieri, lo sarà fino a venerdì 30 giugno, dalle 9 alle 18, il ponte sul fiume Olio tra Ponte Vico e Robecco. Dopo i primi rilievi effettuati a dicembre dello scorso anno, ora sono in corso ulteriori verifiche su questa struttura che collega la sponda brisciana a quella cremonese. Abbiamo deciso come amministrazioni, quindi il comune di Ponte Vico insieme al comune di Robecco d'Oglio, di fare una verifica aggiornata, quindi sullo stato attuale del ponte. Già l'anno scorso sono state effettuate delle prove di carico sulla struttura e da una prima analisi non ha dato problematiche. Ora le verifiche vanno avanti, tra poco avremo ancora la ditta che interverrà con tutte le verifiche pontuali per arrivare presumibilmente tra qualche mese ad uno stato a capire lo stato attuale del ponte, per avere quindi nel breve, medio o lungo periodo le eventuali manutenzioni che dovranno essere effettuate, in modo da capire quello che è lo stato odierno della struttura, capire anche la portata massima del ponte e dare anche alle prossime amministrazioni un'idea di quali potranno essere gli impegni per le due amministrazioni. Ora quindi la strada, come ho detto poco fa, è di competenza di entrambi i comuni, fino praticamente al confine, quindi il confine è il fiume Olio, quindi metà ponte di competenza del comune di Pontevico, mentre l'altra metà competenza del comune di Robecco d'Oglio. Queste verifiche quindi si sono rese necessarie per capire esattamente lo stato attuale della struttura, gli eventuali carichi massimi e programmare per gli anni a venire, quindi per le prossime amministrazioni, le eventuali manutenzioni. Ci scusiamo ovviamente per il disagio che si viene un attimo a creare per la chiusura di una strada che comunque collega i due paesi, noi siamo l'ultimo paese della bassa bresciana, però avendo quindi la nostra tangenziale che passa oltre i nostri 200 abitati, il disagio è notevolmente diminuito. Grazie.